Sta venendo da te anche il mio, mi sa. Ma te che li vado in conto sulle retrovie? Dai, non ci creda, sei veramente un bastardo. Ho ciò che c'è un lanciafiamme, eh? Lo spesso mi rende... Altirla, no? Quindi tutte le risorse. È uscito, eh? È uscito, c'è scritto. Non dirmi che ha fatto veramente alt-f4 per attivare i... No, non ci posso credere che c'è gente veramente così idiota che ci cassa. Se lo fanno veramente, io ti giuro che non gioco questo giorno. Ma farà da un po' perché si stiva preso per il culo. Ci rimarrà per sempre il dubbio, lo sai? Aspetta... Aspetta... Oh Cristo... Queste qua erano da filmare, queste erano da filmare... Dio mio, non è possibile... Allora... Allora...